Il sistema circolatorio svolge la funzione di trasporto del sangue da e verso tutti gli organi del corpo e aiuta a mantenere la temperatura media del corpo a circa 37 gradi centigradi. Che percorso fa il sangue all'interno di vene e arterie? Nell'atrio destro del cuore il sangue è ricco di anidride carbonica e povero di ossigeno. L'atrio destro si contrae e il sangue viene spinto nel ventricolo destro, passando attraverso la valvola tricuspide. Poco dopo il ventricolo si contrae a sua volta e il sangue viene spinto nell'arteria polmonare. In questo modo il sangue, ricco di anidride carbonica, arriva ai polmoni. Dopo aver ceduto l'anidride carbonica ed essersi ricaricato di ossigeno, torna al cuore nell'atrio sinistro e in questo modo completa la piccola circolazione o circolazione polmonare. L'atrio sinistro si contrae e spinge il sangue nel ventricolo sinistro. La contrazione del ventricolo lo spinge poi nell'arteria aorta, poi nelle arteriole e infine in una fitta rete di ramificazioni di capillari arteriosi che irrorano tutto l'organismo. Qui il sangue cede l'ossigeno alle cellule e riceve in cambio l'anidride carbonica. Passa così nei capillari venosi, poi nelle venule, nelle vene e attraverso la vena cava giunge infine nell'atrio destro, completando la grande circolazione o circolazione generale. L'avanzamento del sangue è garantito nelle arterie dalla pressione sanguigna esercitata dal cuore e dalla contrazione delle pareti delle arterie stesse, nelle vene, dalla contrazione dei muscoli e dalla presenza di valvole anido di rondine, soprattutto nelle gambe, che impediscono al sangue di ritornare verso il basso a causa della forza di gravità. Osservando il nostro corpo, possiamo facilmente riconoscere le vene per la loro colorazione bluastra, appena sotto la pelle. Le arterie scorrono più in profondità.